Riprendiamo con un servizio sull'Assemblea di lunedì alle acceerie di Bolzano, dove potrebbe scattare lo sciopero per le nuove regole sulla pausa pranzo. Sentiamo ancora Paolo Vessica. Per discutere dell'attuale situazione aziendale, i sindacati dei metalmeccanici hanno proclamato un'Assemblea lunedì 13 settembre alle acceerie Valbruna di Bolzano, dalle 10 alle 11.30. Dall'ultimo incontro con le RSU è inoltre emerso il cambio radicale della gestione dei tempi del servizio mensa. Da lunedì 13 settembre, infatti, ci sarà l'obbligo di timbratura nei reparti di appartenenza sia in entrata che in uscita, mentre in precedenza questa non era prevista per i lavoratori turnisti. La direzione ha comunicato che in caso di superamento dei 30 minuti di intervallo verrà applicata la trattenuta minima di un quarto d'ora. A riferirlo è una nota della CGL. Questo è ingiusto, spiega Fabio Parrichini, segretario provinciale della FIOM CGL, e anche impraticabile nella mezz'ora prevista del contratto per la pausa pranzo. Lo stabilimento è grande, vuol dire avere solo una quindicina di minuti per mangiare. Il restante tempo serve invece per andare e tornare dalla sala mensa ai reparti e per il servizio di self-service.